Nel pomeriggio di oggi si sono formate code fino a 6 chilometri sull'A14 nel tratto marchigiano tra San Benedetto del Trondo e Pedaso in direzione Ancona. La causa è stata un incidente sulle cui dinamiche esatte sta ora indagando la polizia autostradale avvenuto all'incirca alle 13.20 all'interno della galleria Cupra Marittima al chilometro 297. Il tratto interessato tra l'altro da un cantiere stradale che ha reso necessaria la chiusura temporanea del tratto per circa una mezz'oretta tra Grotta Mare e Pedaso in direzione nord. L'incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti da alcune autovetture sarebbe scaturito dal tamponamento tra i due auto articolati all'interno della galleria per i rallentamenti causati dal cantiere, uno dei quali tra l'altro ha perso anche parte di un carico di lastre di marmo pesanti. Le autovetture che sono poi sopraggiunte non hanno potuto evitare il contatto con i due automezzi fermi. Nessun ferito grave tra i mezzi coinvolti che ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso e pertanto sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici del 118 e le pattuglie della polizia stradale e del personale della direzione settimo tronco di autostrade per l'Italia che per agevolare la viabilità ha immediatamente aperto al traffico un flusso in careggiata nord ed un flusso in careggiata sud anche nella zona oggetto di lavori programmati nella galleria. Le code che si sono formate poi una volta rimossi i mezzi sono andate in smaltimento nel corso del proseguo della giornata.